Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi vi portiamo un po' al mare vi facciamo vedere come giochiamo e vi facciamo vedere molte altre cose divertenti iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanellina seguite il canale su instagram, facebook e anche tiktok iscriviti al canale 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 iscriviti al canale